Benvenuti o bentornati nel canale di Bigane. Io sono sempre propositivo, cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e ho avuto qualche giorno fa un episodio con la polizia mentre stavo volando, ho un video interessantissimo che a breve vedrete qua nel canale e anche in quel caso quello è successo, è legato ovviamente alla legalità di usare un drone, ma io in questi casi mi sforzo sempre quando racconto queste situazioni, mi sforzo sempre nello schierarmi dalla parte di chi controlla andando a evidenziare quanto non sia semplice andare a conoscere ovviamente una materia che diventa specifica e anche difficile. Il fatto verissimo appena accaduto che sto per raccontarvi, anzi ve lo farò raccontare direttamente dall'interessato che mi ha raccontato il tutto, ho detto vada Nick vieni che ci racconti il successo, purtroppo mi fa rimanere un po' male perché fa capire che tutto quello che ci circonda non solo nel panorama droni è sempre incognita ragazzi. Un video che farà riflettere e che vi consiglio di seguire ma soprattutto di condividere, sarà una chiacchierata con Nicola, la vedrete, non è brevissimo ma è interessante e comunque se vi va lasciatemi un like e se non siete iscritti vi aspetto qua nella mia community, ovviamente condividete il video ma iscrivetevi. Bene, oggi il fatto che vi voglio raccontare, come detto, mi delude un po' perché mi fa perdere un po' alcune certezze assodate e che concedetemelo riguarda un po' la vita di tutti i giorni, tutti noi. Il fatto ce lo racconta a breve Nicola che sarà ospite del canale, lui innanzitutto è per me un amico, noi ci accomuna la passione per il mondo dei social, per il mondo youtube e oggi sarà proprio questo il tema, ma soprattutto ci accomuna la passione per il volo ai droni. A noi ci piace provare a fare delle belle cose, pensate che noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, lui è di quella zona là, al lago Trasimeno, per provare il primo evo e da allora praticamente periodicamente ci si vede, ci si fanno video insieme, soprattutto si vola insieme, io lo seguo sempre nel suo canale, lui ultimamente fa roba di grande livello e ovviamente è scontato, vi lascio il link sotto del suo canale, in descrizione, se siete curiosi. Andate a vedere i suoi, io li chiamo docu video perché affronta temi abbastanza importanti e lo fa veramente bene e dunque potete approfondire anche bene il racconto nei dettagli di ciò che gli è accaduto e che oggi ci racconta un po' in una chiacchierata nel canale. Allora io passo direttamente al computer e ci si collega con lui e ci si fa raccontare da lui quello che gli è successo, si fa una chiacchierata che spero sia interessante per chi ha voglia di ascoltarla. Dunque colleghiamoci al computer. Ciao Nicola. Ciao Timon, grazie dell'invito. Grazie di essere qui da me ospite del canale. Mi sembrava doveroso parlarne nel canale visto che si parla dei droni perché è una cosa che mi ha veramente lasciato stupito. Io nell'introduzione ho detto che noi si cerca sempre di fare le cose in regola, io sto sempre dalla parte anche di chi deve controllare perché si capisce che non è facile, è un mondo un po' particolare, ma quello che è successo a te è impossibile. Per cui ti dico, ci racconti brevemente perché tanto lo sa, video mia sono tutti lunghi, quello che è successo nei dettagli? Sì, allora tutto diciamo che è iniziato mentre stavamo appunto in Africa dove ho ricevuto una chiamata dal corpo forestale che mi diceva che insomma avevano bisogno di alcune informazioni perché avevano visto un video su Instagram, quindi è bene precisare che loro nemmeno si erano accorti che c'era un canale YouTube di mezzo. E tutto, forse il problema se vogliamo, nasce da qui perché noi negli ultimi mesi abbiamo iniziato a convertire in verticale i vari video del canale YouTube perché i vecchi video non li abbiamo mai pubblicati su Instagram e tanto bene è finito in mezzo anche questo del lago di Pilato che è andato particolarmente bene o male visti i risultati su Instagram e quindi loro hanno visto il video su Instagram e mi hanno chiesto di poter andare in caserma come persona informata sui fatti. Tutto questo è bene precisare che è avvenuto senza che nessuno mi scrivesse niente a casa quindi sono andato di mia spontanea volontà in caserma a seguito della chiamata. Ma spieghiamo questi laghi di Pilato dove sono? Allora il lago di Pilato è in mezzo ai Monti Sibillini quindi all'interno del parco dei Monti Sibillini e quindi effettivamente oggi è tutta zona rossa e possiamo insomma dirlo tranquillamente perché aprendo di flight vediamo che è zona rossa. E il video su Instagram è stato pubblicato il 14 novembre del 2023 quindi pochi mesi fa. Io temo che poi tutto l'errore nasca da qui cioè questi hanno visto il video di recente, mi hanno contattato e quindi io sono andato in mia spontanea volontà in caserma a fare tutte le dichiarazioni del caso. Ovviamente quando sono andato in caserma ho precisato che il video è vecchio di 5 anni come dimostra la data su YouTube che è il 10 giugno 2019 quando è stato pubblicato. Ma erano riprese e avevi fatto sì? Quelle lì erano l'esperienza delle riprese fatte durante l'escursione al lago di Pilato però non c'è nessuna evidenza che, nel senso non ci sono io con un drone in mano non ci sono io con un radiocomando in mano e come ho precisato in quell'occasione cioè noi solitamente utilizziamo anche dei video di altre persone nei video. Ma si possono acquistare online? Esatto, noi abbiamo quattro siti in abbonamento di recente, l'estate scorsa siamo stati in Giordania per esempio è pieno di video col drone ma il drone mio in Giordania non è mai entrato eppure il video è pieno di riprese E allora si scrivono a Giordania Eh sì sì, ora scriveranno anche a Giordania finirò in galera anche là magari e quindi, niente secondo me il problema principale è che intanto hanno visto il video su Instagram che è recente e quindi è lecito pensare ok, magari c'è qualcosa di strano quando sono andato in caserma mi hanno chiesto quindi tutta una serie di dati il QR code, l'assicurazione di tutto insomma e io ho precisato io vedo tutto come ho dato tutto ma cinque anni fa questa roba non c'era l'assicurazione per il drone non esisteva il QR code non esisteva di flight non esisteva nulla che te puoi dimostrare palesemente che sono le stesse immagini di Instagram quelle di cinque anni fa su YouTube per cui è dimostrabile anzi su Instagram c'è anche un'immagine in più dall'alto che sul video non c'era e che ho precisato essere stata presa in aggiunta quando abbiamo pubblicato il video su Instagram perché nel frattempo erano passati degli anni ho trovato delle clip in più e ho aggiunto un pezzo in più che ovviamente non è visto allora il video è pubblicato il 10 giugno del 2019 arrivando al dunque e sei venuto via da questa discussione chiarendo tutto ma poi mi sembra di aver capito se arriviamo a un verbale sì, tre giorni dopo essere stato in caserma quindi a dichiarare spontaneamente le informazioni che ho condiviso dando il QR code l'assicurazione eccetera tutte cose che non servivano praticamente io l'ho vista così che è stata la scusa per identificarmi perché loro fino a quel momento non sapevano nemmeno dove vivessi quindi sono andato lì ho dato il documento di identità e tre giorni dopo tanto bene come riporta il verbale il 19 gennaio tre giorni dopo sono stato in caserma hanno compilato la multa dove accertano che io ho commesso un illecito mettendo come data dell'illecito quella di dicembre 2023 non tanto perché mi hanno trovato a volare lì a dicembre 2023 probabilmente sarà la data in cui loro hanno visto il video a dicembre 2023 l'ho capito ma hanno dichiarato sul verbale che te stavi volando qui giorno lì mi perdono che ho capito giusto? cioè se hai commesso l'illecito in quel momento perché loro cioè in un verbale si contesta l'infrazione e l'infrazione si crea quando si commette di conseguenza l'infrazione la tessi commessa nel 2019 non il 2023 a dicembre sbaglio? eh sì in teoria sì però loro da come scrivono non c'è scritto che mi hanno trovato lì loro hanno accertato che in quella data veniva commesso un illecito quindi immagino ma in generale? secondo me sì perché io certamente quel giorno non c'ero là questo è sicuro perché proprio non c'ero fisicamente quel giorno quindi immagino che loro hanno messo quella data che è la data che hanno visto magari su Instagram come video e da lì è iniziato tutto ma ti hanno fatto una sanzione amministrativa? sì è una multa di 213 euro che poi alla fine ti fanno un importo del genere che uno dice vabbè pago e faccio prima io l'ho contestata la multa tramite PEC ma nessuno ha mai risposto quindi se non paghi poi finirà a recupero crediti e quindi alla fine dei conti non so uno è obbligato a pagare scusa Nicola è una domanda ma per capire ma cosa ti hanno contestato ma giusto per capire non incorrerci anche noi qual è l'articolo che ti hanno contestato? allora a me hanno contestato l'articolo 5 C2 della lettera C del DPS 34 del 28 giugno 2007 del parco dei Monti Sibilli hai il link che mi ha mandato per cui andando a vedere eccolo qui lo apro questo è un disciplinare per lo svolgimento di attività sportive di escursionisti di manifestazioni motoriste nel territorio del nazionale è una norma direttamente del parco che hanno contestato è invitato il suo volo coranobili a motore a motore ma è un aereo di drone e infatti loro nell'inflazione scrivano torvolo con aeromobili a motore fatto salvi interventi urgenti di pubblica sicurezza autorizzati dal parco per finalità diverse da quelle relative per cui loro ti contestano questo articolo 5 Homma 2 lettera C che te sorvolavi un aeromobile a motore ma non mi pare il caso perché non è un aereo questo è un drone per cui boh non capisco è un peccato ora dice hai preso un verbale 200 euro ci può essere stato un errore cioè si sbaglia tutti per cui è anche giusto non colpevolizzare l'un l'altro però ho voluto portarti nel canale perché mi avevi raccontato questa storia ci è rimasto un po' male perché voglio dire no avevi usato la trasparenza massima 2019 e secondo me ecco boh è un peccato perché magari queste sono occasioni per crescere non per distruggere secondo me però è così purtroppo c'è po' da fare e niente ti pagherai sta multa e speriamo che non risucceda io mi vengo a dirti così Nicola spero che sia l'occasione per fare un po' di chiarezza sul palco perché a mio avviso un po' di stranesse su questo palco di Montesipillini guarda io ci sono stato io ci sono stato ho scritto ma all'epoca mi hanno dato l'autorizzazione gli ho mandato tutta la documentazione avevo fatto proprio diciamo un riassunto che dovevo fare con dronezzine con un amico di di Spoleto che saluto che mi aveva dato una mano che dovrei andare a trovarlo ma non ci siamo mai visti con Bernardini e niente però ecco rimango perché io per l'esperienza avuto nel parco onestamente me l'ho trovato bene però era il 2020 capito per cui non ora non saprei perché non ci sono più stato però vabbè la situazione è questa e a questo punto il video si chiude qui Nicola ti saluto ti ringrazio perché una chiacchierata che spero appreziate magari cerchiamo di di fare il meglio poi si sbaglia tutti si sbaglia noi che ci si diverte a condividere magari sbaglia chi magari fa altre cose come è successo ora oppure no non si sa però dai andiamo avanti e speriamo che queste cose magari non non succedono tutto qui speriamo grazie ti ringrazio ciao Nic ciao ci si vede alla prossima ciao dai big ci si vede alla prossima ci si vede alla prossima